Buongiorno cari bambini! Oggi voglio condividere con voi un pezzo della mia storia epistolare, di quando comunicavo attraverso le lettere con amici e amiche. Qui potete vedere le risposte delle lettere che scrivevo a loro. Una volta si comunicava così, perché non c'erano né i computer e nemmeno i cellulari. Attraverso la scrittura si possono liberare sentimenti, emozioni, gioie e dolori. A mio parere certi pensieri riportati sulla carta acquistano un sapore particolare, perché quando scriviamo siamo molto più attenti a studiare le parole, a trovare quelle che meglio si adattano al contenuto e alla comprensione. Era anche bello il tempo di attesa nel ricevere la risposta, che spesso era di una o due settimane, e tutto il carico di emozioni che comportava tra il momento in cui si scriveva la lettera e il momento in cui si riceveva la risposta. Come dice un antico proverbio, le parole volano, gli scritti rimangono e sono sempre lì a portata di mano, e dietro ad esse il volto e il carattere di chi le ha scritte. Cari bambini, nella speranza che anche voi possiate trovare il gusto di scrivere, vi mando un bacione grande e vi auguro una buona giornata.